Il corretto smaltimento di rifiuti fa un salto di qualità tecnologico e con esso si trascina un più incisivo monitoraggio delle trasgressioni con rapidità di intervento. Tante funzioni a portata di smartphone, quelle che Marche Multiservizi ha varato oggi attraverso il rifiutologo, una app che consente un nuovo dialogo interattivo fra l'azienda e la cittadinanza. Un modo semplice per risolvere ogni dubbio circa lo smaltimento di rifiuti semplici, particolari, ingombranti o pericolosi, nonché un modo ulteriore di rendere la cittadinanza sentinella del decoro del territorio inviando segnalazioni di abbandono scriteriato. Marche Multiservizi presenta oggi il rifiutologo, l'app utile per segnalazioni ambientali. Spieghiamo in che senso questo strumento aiuterà sia Marche Multiservizi che la cittadinanza. Soprattutto deve essere uno strumento di supporto a quelli, oltre a quelli che abbiamo già, di tipo cartaceo in forma digitale che deve aiutare il cittadino a sensibilizzare sempre di più quello che è l'attenzione alla raccolta differenziata. E quindi un'applicazione che ci porta direttamente a conferire nel miglior modo possibile il rifiuto. Oltre a questo è un modo di interagire direttamente con il cittadino attraverso una tipologia digitale e quindi entrare sempre di più su alcune dinamiche come quella di alcune segnalazioni rispetto a degli abbandoni del rifiuto, a disole ecologiche che magari non sono gestite correttamente. Proprio per questa interazione, questo collegamento che l'azienda vuole avere con il territorio, con le amministrazioni comunali, con i cittadini. L'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli ha ricordato in conferenza stampa come dal suo insediamento in azienda la raccolta differenziata sul territorio sia passata dal 23 al 72%. Una crescita costante e graduale negli anni, frutto di investimenti sul personale, sull'impiantistica ma anche sulla cultura del riciclo. Una cultura che dall'app spazierà anche all'aspetto ludico, come testimonia la novità degli Eco Games. Eco Games è una cosa molto simpatica, soprattutto per i giovani, ma non solo per i giovani, che serve ad fare in modo che le informazioni, la conoscenza del rifiuto non sia solo un fatto impegnativo, ma sia anche divertente. Quindi è un gioco e attraverso questo gioco, che ovviamente vale su tutto il nostro territorio, ci si può informare ma si può anche giocare e divertirsi. Quindi l'invito è di utilizzarlo al massimo perché comunque anche questo crea cultura sul tema dei rifiuti e soprattutto sul miglioramento della qualità della raccolta differenziata. Lo ribadisco ancora perché la qualità è poi l'elemento importante sulla fase successiva, che è quella del recupero. Una buona qualità ovviamente ci consente di recuperare sempre di più il materiale, rigenerarlo e metterlo a disposizione dell'ambiente senza utilizzare materie prime e vergini.